In conseguenza alla nota crisi economica che ha investito e persiste tuttora il nostro paese, la vita di molte manifestazioni, sagre ed eventi è stata messa a dura prova. In particolare, a seguito dei fatti di Torino, il capo della polizia, Franco Gabrielli, ha emanato una circolare che fornisce nuove regole precise per la gestione degli eventi, che prevede un forte afflusso di pubblico. Le misure di sicurezza contenute nella norma rappresentano sì una più consapevole e sicura gestione delle manifestazioni, ma nel contempo apportano maggiori problemi agli organizzatori, alle prese con costi maggiori e nuove problematiche. Infatti, come un po' in tutta Italia, anche molti paesi dell'entroterra Vestino sono stati costretti a rinunciare ad alcune delle tradizionali feste. È quello che è successo nel comune di Farindola, già colpito dalla tragedia di Ricopiano e costretto a rinunciare al flusso turistico estivo, dove, dopo sette edizioni consecutive, tanto successo e visibilità portata anche fuori confini d'Abruzzo, quest'estate salta la Sagra del Pecorino, fiore all'occhiello della comunità farindolese. Anche a Loreto Prutino si sono spenti i riflettori su centro per centro storico, uno degli eventi più attesi e riconosciuti. La speranza è tutta nel decreto Salva Sagre, uscito pochi giorni fa. Dopo le molte segnalazioni e richieste degli amministratori locali e una fase di monitoraggio, infatti, il Ministero dell'Interno ha emesso una circolare che riduce la burocrazia perché organizza eventi pubblici di piccole dimensioni, con la possibilità data ai sindaci di firmare le autorizzazioni senza doversi assumere le responsabilità indicate dalla circolare Gabrielli. Il cosiddetto decreto Salva Sagre è però arrivato ad estate inoltrata e molti appuntamenti non sono più programmabili, causando lo svuotamento dei piccoli centri, specialmente quelli a ridosso delle zone pedemontane.